Dalle Trivelle in Adriatico al Masterplan Abruzzo, i sindacati evidenziano le criticità dopo il taglio di 255 milioni deciso dal governo Renzi ai fondi spendibili entro il 2017. CGL e Cislewil chiedono una serie di incontri al governatore D'Alfonso. Ce ne sta acqua fredda? Intervento congiunto dei sindacati confederati d'Abruzzo e Molise sulla drastica diminuzione dei fondi governativi per il Masterplan Abruzzo, il cui testo è stato approvato dalla giunta regionale il 12 dicembre. Le risorse scendono di svariati milioni e passano dai circa 394 a 138 milioni e mezzo. Fondi spendibili nel biennio 2016-2017, pesante il calcolo secondo i sindacati in negativo se si pensa che fino al 2020 erano previsti 621 milioni. Abbiamo finalmente ottenuto che la programmazione dei fondi europei contenga obiettivi occupazionali espliciti, scrivono in una nota CGL e Cislewil. Bisogna che anche il Masterplan faccia lo stesso. Non c'è raccordo tra questo e la programmazione. Per i sindacati si sono allungati i tempi di realizzazione delle opere. Altro punto debole è il software delle politiche, dall'industria al turismo, dal lavoro al territorio. Per quanto riguarda il territorio appunto, sostengono i sindacati. Le strategie urbane vanno estese a tutta la regione e non concentrate nei quattro capoluoghi. CGL e Cislewil hanno inviato un documento al Presidente della Giunta Luciano D'Alfonso e agli assessori competenti accompagnato da una richiesta di incontri su tutti questi temi complementari, come i fondi strutturali europei che devono essere avviati contestualmente al Masterplan e che prevedono sviluppo economico, aree di crisi, aree interne, revisione della legge. Ed ora ascoltiamo la replica del Governatore D'Alfonso nel giorno della conferenza stampa sul bilancio 2015 della sua giunta. Nino Germano. Ho fatto 190.000 km di strada, ho lavorato per circa 470 giorni, per un totale mi pare di dire per circa 5.000 ore. Ho rappresentato un costo per la regione di 180.000 euro. Sono molto soddisfatto, ma soprattutto ho reso misurabili i risultati raggiunti, i problemi incontrati e le emergenze fronteggiate. Comincia con i costi del Presidente la conferenza stampa di Luciano D'Alfonso per tracciare un bilancio del 2015, una nata caratterizzata dalla questione ombrina e chiusa con l'uscita dell'Abruzzo dalle regioni del referendum sulla petrolizzazione dopo averlo promosso. L'ombrina di ferro non esiste più. E' cessata la vita amministrativa e giuridica di L'ombrina di ferro. Noi, endo le 12 miglia, abbiamo guadagnato una norma voluta da Palazzo Chigi, chiesta dalle regioni, con la forza dei comitati e dei movimenti, e quella norma oggi è vigente. Il referendum era uno strumento funzionale ad avere una norma. Adesso c'è bisogno di avere ulteriori norme per aumentare la capacità di copertura oltre le 12 miglia. Durante la conferenza stampa è stato presentato anche un video realizzato dall'ufficio stampa della giunta regionale a costo zero, ha precisato D'Alfonso. Il presidente ha rivendicato quanto fatto in 18 mesi di governo, dalla nascita di TUA, l'azienda unica di trasporto regionale, all'impegno dei fondi europei, dal sostegno alle politiche dell'industria, all'uscita dall'isolamento con le reti europee del corridoio adriatico. Sul masterplan che secondo D'Alfonso dovrebbe muovere un miliardo di euro nei prossimi anni, questa è la replica ai sindacati sui fondi che non ci sarebbero. È un programma di investimenti che dispone per l'80% di progetti maturi, per il 20% di progetti che devono essere precisati. Io sono molto soddisfatto anche perché non ci toccava stare dentro al masterplan.